Ed eccoci ragazzuoli, bentornati su Xanaverse 2 per due mod, anzi tre mod veramente incredibili. Credo che sia la prima volta che vediamo ufficialmente un Goku di questo tipo e non solo. Mi raccomando, pollice in su ora, vi voglio veramente sempre carichi al massimo e se non l'avete ancora fatto lasciate ora un fottutissimo like, mi raccomando. Ma direi che le chiacchiere sono state fin troppe, andiamo nella cara selezione dei personaggi. Vi ricordo che, come sempre, oggi vedremo delle mod installabili però solo sulla versione PC del gioco. Quindi se anche voi volete le nuovissime ed incredibili mod che continuano ad uscire un po' alla volta, mi raccomando, visitate Instant Gaming qua sotto in descrizione perché lì troverete il gioco ad un prezzo per PC veramente bassissimo. Date un'occhiata poi al sito perché ci sono pure altri giochi, preordini e così via. Ma eccolo qua ragazzi. C'è lui, God of Destruction Goku. Stiamo parlando, credo forse, del primissimo Goku, dio della distruzione, che vediamo ufficialmente qua sul mio canale YouTube. Dovete sapere infatti che ci sono un certo numero di mod che, nonostante siano uscite nel corso degli anni, ho preferito sempre non mostrarvi perché avevo in mente delle cose particolari qua sul mio canale. Però mi sono detto, no, passa troppo tempo. Quindi incominciamo a tirare fuori quelle che sono un po' di mod incredibili e c'è appunto questo God of Destruction Goku. Curiosissimo di provarlo e di capire un attimino, oltre all'ultraestinto, se ha ulteriori poteri. Come vedete c'ha un po' l'estetica di Beerus, ma i pantaloni sono diversi, sono quelli un po' del Goku, anche se è una colorazione un po' differente. E abbiamo poi Widos, la fusione tra Whis e Vados. Quindi ragazzi, vi faccio notare il bastone, che è molto particolare. Lo vado a scegliere e andiamo direttamente a combattere, eccolo qua, all'arena del torneo della potenza. E godiamoci questo potere, incredibile, impressionante, spaziale, veramente assurdo. E spero che sia così, perché io mo' mi sto gasando. Tutte le mod sono di Sol, che ormai da anni e anni ci va a creare varie mod per Xenoverse 2. E andiamo subito a testare il Goku. Va, ci andiamo subito per primo. E direi che nel complesso mi sembra di notare che il moveset è quello leggero, almeno è quello base. Non ci sono variazioni particolari sia in quello sia poi in questo qui, diciamo, il moveset pesante. Un po' un peccato, eh, devo essere sincero. Però alla fine ci può stare. Vediamo un attimino gli stamina break, che sono quelli che conosciamo, quindi anche qua non ci sono variazioni particolari. Anche il movimento del personaggio mi sembra abbastanza regolare. Su questo non cambia praticamente nulla. Ma vediamo la presa, che è quella del Goku ultraistinto, ma ora è arrivato il momento delle skills. E abbiamo uno schianto del meteorite. E vabbè, per lui in realtà ci può stare abbastanza tranquillo. Una Kamehameha molto basilare per questo Goku God of Destruction. E poi abbiamo, ecco qua, qualcosina già cambia. Furia del Dio della Distruzione. Una mossa praticamente di Beerus che nel complesso, secondo me, a lui ci può stare. Anche perché ora in questa forma Dio della Distruzione, secondo me, può essere ben rappresentata. Vedete, questa è proprio la posa da God of Destruction. Infatti mette le mani dietro al suo corpo, come farebbe il caro Beerus. Qui abbiamo uno spirito inesauribile. Peccato che non si mette in posa. Non ho capito perché, potrebbe essere quasi un bug, sapete? Cioè, vedete, lui di solito dovrebbe mettersi un attimino in posa per fare questa carica. Non lo fa. Non credo perché l'aura è piena. È proprio, magari, non so se è un bug o qualcosa di simile. Notiamo l'estetica, ragazzi. A me il personaggio piace un botto. Goku Ultra Instinto già di per sé è figo, però con questi abiti non l'avevo visto, almeno in combattimento. Avevo visto qualche screenshot, qualche foto, però poi niente di particolare. E vediamo le Supreme. E abbiamo una sfera della distruzione. E alla fin fine ci stava per questo Goku God of Destruction. Alla fine, waiu. È normale vedere un potere di questo calibro per un Goku di questo tipo. Arrabbiatissimo, fa proprio una faccia sforzata, arrabbiata, furiosa. E lancia quindi la sfera verso il suo avversario. O in questo caso i suoi avversari, perché Widos sono due personaggi nemici all'interno. E poi una visione divina. Allora, il personaggio esteticamente mi colpisce parecchio. C'è da dire però che purtroppo Muset e Mosse non sono particolarmente originali, perché provengono direttamente dal gioco. Quindi sono abbastanza regolari, non ci sono variazioni particolari. Qua c'è il colpo alla testa, che colpisce in maniera devastante Widos. Che ora andiamo anche a provare. Aspetta, no, no, no. Lui però dovrebbe avere... C'è l'Ultra Instinto. Quindi ne approfittiamo per andare alla selezione del personaggio. E qua vi faccio notare sia Widos, che ora andremo a provare, ma anche il terzo personaggio che vedremo oggi, ovvero Kuan. Che credo non abbiamo mai visto qua sul mio canale. Ovvero la fusione tra Goku e Gohan. Andiamola a provare. Quindi ci ritroviamo questa volta all'area d'atterraggio Capsula. Almeno variamo un attimino quella che è la zona in cui andremo a combattere insieme. E sono curioso per questo Widos. Perché mi incuriosisce già l'estetica, il fatto che quel bastone riporti due caratteristiche di entrambi i bastoni di Wido... Eh, sì, di Wies e Vados. Vedete? È molto figo il fatto che nella parte inferiore ci sia uno... Cioè, entrambi, come dire, entrambi i bastoni sono stati inglobati in un unico bastone. Che esprime quindi un duplice potere. Mamma mia. Veramente molto figo. Il fatto che nel complesso ci siano le caratteristiche di entrambi i personaggi è un po' strano, devo dirlo. Però comunque c'è da dire che, notate, anche il ciuffo è doppio. Cioè, il ciuffo uno è quello di Wados e l'altro è quello di Wies. Appunto, quindi dimostra avere molti più capelli. Anche le colorazioni sono un po' diverse rispetto al solito. Ma vediamo il moveset. Che forse potrebbe essere abbastanza regolare. Mi sa di sì. Mi sa che non ci sono poi grandi variazioni. Vediamo gli attacchi pesanti. Però mi sembra che stiamo parlando di qualcosa di già visto, eh. Almeno mi sembra. Perché ora Wies e Wados non li utilizzo da un po'. E... aspetta, aspetta. Non ci dimentichiamo. Qui abbiamo uno stamina break. L'altro stamina break. Se riesco... Vediamo presa. Che è andata a segno nonostante lui non avesse il vigore. A volte cade all'infinito e quindi non lo acchiappa in tempo. E vediamo un po'. Preludio alla distruzione. Quindi lo si mette a terra e si distrugge totalmente il vigore. Qui abbiamo un bel colpo rivelatore. Piazzato praticamente a terra anche in questo caso. Concerto della distruzione. E... Sì, nel complesso ci si può avvicinare per fare l'attacco più da vicino. Oppure se sfere si mettono intorno per provare a fare varie combo e mettere a destra e sinistra l'avversario che poi viene colpito dalle sfere. Direttore della distruzione che praticamente serve in pratica poi a indirizzarle queste sfere. Quindi perfetto. Può avere vari modi per essere applicato tutto il suo moveset riguardante le skill. E poi abbiamo il Requiem della distruzione che riprende a pieno le altre mosse sempre di questi personaggi basilari. I cari di Guise e Vados. E poi abbiamo una distruzione sinfonica. Quindi va a colpire in maniera totale l'avversario. E anche in questo caso abbiamo nel complesso... Sì, credo skills, moveset che richiamano in maniera totale ciò che c'è già presente all'interno del gioco. Questo, devo confessarlo, chiaramente è un po' un peccato. Sia per il Goku Ultraistinto che per questo Widos. Questo, questa Widos, poi ognuno lo definisce come vuole. Ma in ogni caso c'è da dire che forse l'estetica quella si spacca. Però si sarebbe potuto usare un attimino in più anche per quanto riguarda i moveset veri e propri. Ma andiamo direttamente a Q1. Ovvero la fusione tra Goku e Gohan. Tramite però il bracciale. Un bracciale visto in più occasioni come ad esempio anche Dragon Ball Fusions. Quello lì per Nintendo 3DS di cui ho fatto la serie alla sua uscita. Roba come 3-4 anni fa, ragazzi. Allora, direi di andare a vedere un attimino i moveset. Che mischia un po' di cosucce qua all'interno. Qua in questo caso si è già usato forse un attimino in più. Almeno mi sembra, eh. Non vorrei dire una cavolate. In ogni caso mi correggete e tutto si sistema. Comunque mi sembra che sia abbastanza convincente. Sicuramente più delle mosse del moveset di Goku Ultraistinto e di questo Widos. Che vedete? Adesso sta buscando veramente tanto. E andiamo a vedere un attimino i vari Stamina Break. Lo colpisce in maniera molto veloce. Mi garba. Quando gli Stamina Break sono veloci mi piglio bene. Perché soprattutto magari in PvP e robe simili può servire. Io chiaramente vi ricordo sempre che con le mod non vado mai in PvP. Proprio per correttezza e per tutto quanto. Poi ognuno fa come vuole. Però sarebbe corretto evitare. Poi Kamiamiah di rompente. Iniziamo subito con le skill vere e proprie. Abbiamo già visto poco fa l'attacco del Meteorite. Kamiamiah di rompente. Un bel Masenko. Che... Ma sì. Alla fine gli può stare per questo Kuan. Gli va a riprendere un po' varie mosse. L'attacco del Meteorite ma non gliel'avrei messo. Avrei messo sicuramente qualche altra cosa di un po' più tosto. Qualcosa di più spettacolare. Poi vabbè. Una carica massima per ricaricare la nostra aura. Ci doveva stare. La presa l'avevo fatta. Mi sembra di no. Che poi alla fine è quella di Goku che spedisce via il proprio avversario. E nel complesso poi abbiamo una Kamiamiah teletrasporto. E questa richiama chiaramente il carissimo Goku. E poi ricaricandoci un po' abbiamo un cannone dell'anima speciale. Che dovrebbe rappresentare chiaramente Gohan. Allievo di piccolo da cui chiaramente ha imparato il Makinko Sappu. Nel complesso ci può stare. Poi abbiamo un'esplosione dello spirito per allontanare l'avversario. E qua abbiamo visto, no? C'era la distorsione che non ho provato. Ed era praticamente, vabbè, questa semi scomparsa per qualche secondo. Per divincolarsi per quanto riguarda una sorta di evasiva. Quindi ragazzuoli, che dire? Showcase abbastanza veloce. Tre personaggi molto veloci. Perché nel complesso, a livello estetico, mi sono piaciuti tutti. Forse questo Quan è quello che colpisce meno. Sicuramente lui o lei. In ogni caso mi sono piaciuti un botto insieme. Perché la cosa figa è il bastone che richiama entrambi i bastoni di Whis e Vados. O meglio, entrambi poi ce l'hanno con questo ninnolo, questo coso, diciamo, particolare di Whis e Vados. Sono entrambi nella parte superiore. In questo caso ce l'abbiamo nella parte anche inferiore. Mi sa di qualcosa di più epico, più divino. Però comunque mi è piaciuto abbastanza. Per non parlare poi comunque del Goku Ultra Estinto, da un punto di vista estetico, sicuramente riuscito. Quindi si poteva fare però qualcosina in più. Ragazzuoli, che dire? Altre mod, chiaramente, stanno per arrivare. Nio e il Serbo un pochettino di spettacolari per i prossimi giorni. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, ci becchiamo con prossimi video e alla prossima. Ciao!